ehi la ciurma rieccoci qui sono mazzetess e torniamo alla carica con un vecchio titolo che forse voi credevate ormai sparito child of light volevo tornare su di lui appunto per una breve recensione di quello che alla fine mi ha lasciato dopo tutti questi video dopo questa serie completata che se per caso non avete ancora visto potete fare un salto a vedere come l'avevo fatto di valiant arts mi sembrava dovuto farlo anche di child of light anche se non l'ho non ho registrato la parte in cui trovo tutte le parti della scritta insomma ho visto che ci sono già parecchi video che lo mostrano e mi sembrava un enorme impiego di tempo e ora non ho tantissimo tempo da dedicare a questo insomma quindi sarà una recensione così con le immagini che scorrono di di child of light nel frattempo innanzitutto partiamo dai punti positivi devo dire che uno in assoluto è la grafica perché ha una grafica davvero semplice ma efficace perché è una grafica disegnata no ma è proprio come uno ci si aspetta che sia la grafica di una fiaba essendo una fiaba questa questa questo tono acquarellato insomma come se fosse un'illustrazione di un libro per ragazzi fa davvero il suo sporco effetto poi l'animazione di di aurora o comunque di niculus poi aurora soprattutto con le ali e con i capelli che fluttuano al vento è davvero una cosa molto molto bella infatti questo proprio bravi ubisoft spettacolare e ti garantisce un'immersione totale nel titolo sì assolutamente perché uno si trova proprio dentro la fiaba altri pro sono la storia la storia sviluppata bene ha una buona trama ha un buon inizio un buono svolgimento una buona fine niente è scontato e ci sono anche delle parti della storia che non sono quest principali insomma come quello dei del villaggio dei bolmus popoli o il villaggio dei capilli eccetera eccetera che sono davvero belle e aggiungono qualcosa in più aggiungono inoltre i personaggi molto bello è anche il sistema da gioco di ruolo insomma che da queste abilità che possono essere utilizzate dai vari personaggi e ognuno deve scegliere un po il percorso da seguire perché non possono essere sbloccati tutti i punti di tutte le abilità quindi bisogna giostrarsi bene e capire bene anche come crearsi la propria squadra in modo da avere una squadra abbastanza bilanciata con uno che possa curare diciamo uno che possa essere quello ad attacco a distanza uno che abbia che sia più tank magari o più fight diciamo è molto strategico anche quindi non è un gioco solo per bambini perché c'è molta strategia in mezzo e e questo è davvero una cosa ottima altro pro è assolutamente il sistema di combattimento perché il sistema di combattimento è stato sfruttato davvero eccezionalmente con l'utilizzo di nicolus l'utilizzo della barra appunto di perché per castare le azioni a che siano abilità piuttosto che attacchi normali che siano pozioni scambio di personaggi eccetera eccetera la possibilità di rallentare gli altri possibilità di velocizzarsi gli oculi poi davvero gli oculi sistema degli oculi è spettacolare davvero ti dà una possibilità di gestire la partita che è paurosa paurosa puoi davvero cambiare partita da un da una giocata all'altra da una volta all'altra che che utilizzi questo gioco e fai la storia principale puoi cambiare totalmente il modo di agire e quindi quello è davvero un elemento proprio da non sottovalutare per un titolo poi soprattutto che a questo costo e a che a questo target non è un titolo mainstream come può essere un assassin's creed come può essere un far cry eccetera eccetera è un titolo basso diciamo di media importanza che comunque spacca alla fin fine i pro mi sembra di aver detto tutto ah c'è anche un messaggio nel senso essendo una fiaba vabbè questo mi sembrava scontato non l'ho neanche detto però comunque trasmette un messaggio nel video gioco che non è una cosa scontata come ho già detto nel video di recensione di valiant arts i contro invece se dobbiamo proprio trovarne sono legati al sistema dei personaggi i personaggi sono carini sono tutti con una caratterizzazione interessante diciamo dai gol dal topo diciamo si sto dicendo sempre diciamo no porca miseria il topo ci sono i due clown dove però uno noi due giullari dove però uno è triste quindi ha un tipo di attacchi l'altro invece allegra felice un uomo una donna poi c'è quel tizio enorme che non mi è proprio supertancoso che fa un sacco di danni non mi ricordo più il nome un sacco che non apro più il gioco c'è aurora con il suo stile c'è il mago quello del villaggio dei capilli che anche lui ha un suo stile il problema appunto in tutto questo è che più che il suo stile ha la sua personalità una personalità è una storia dietro che è ben sviluppata le abilità invece spesso ricadono sempre su dei degli stili simili diciamo perché a partire i primi hanno una buona differenziazione cioè aurora da rubella da robert che è il topo se non sbaglio si chiamava robert anche il tizio supertancoso e il mago secondo me questi sono i cinque stili di gioco poi hanno aggiunto il fratello di rubella la finta sorella di aurora chi altri poi la tizia la del villaggio dei pisceani di cui anche la non mi ricordo più il nome che però non hanno uno stile proprio loro prendono un po' da una parte un po' dall'altra un po' di rallentare un po' di difesa però non hanno un utilizzo forte diciamo nel combattimento e di conseguenza uno poi alla fin fine finisce per utilizzare 3-4 personaggi perché davvero ce ne sono tanti e questo aumenta la possibilità di gioco che puoi avere però alcuni hanno una differenza così leggera da altri o hanno un'utilità così bassa in confronto ad altri che non sono particolarmente utilizzabili davvero io penso al fratello di rubella io poi magari è colpa mia che io di strategia non sono un grande campione ma l'ho trovato davvero abbastanza inutile come sistema proprio di combattimento come abilità non era gestito bene no no non era gestito bene e questo diciamo che secondo me è l'unico contro diciamo che ho trovato serio anche perché bug non ne ho trovato nessuno proprio nessuno e quindi a differenza di Valiant Hearts questo è buono ci hanno dedicato del bel tempo ah altro pro che non ho sottolineato perché non ho sfruttato questa questa cosa diciamo è la possibilità di giocare in due uno con Igniculus e l'altro con Aurora con due controller magari io ho un controller ma non sono riuscito a configurarlo bene in realtà l'ho comprato recentemente quindi quando ho registrato le ultime due puntate di Child of Light non sono stato a cercare di configurarlo per fare giusto le ultime due puntate comunque ne posseggo solo uno e non ho provato con nessuno il multiplayer uno con Igniculus e l'altro con Aurora però è una bella idea diciamo per giocare insieme anche se magari non è un titolo che uno gioca tanto insieme magari uno può giocare più insieme qualche cosa di sfide tipo non so un Mario Kart o un Sonic All Star Racing Transformed che appunto sto giocando parecchio ultimamente ma è una buona cosa diciamo una cosa interessante come credo possa essere se l'avete visto la serie di Bravers quella che sta facendo Marco 88 anche là credo non sono sicuro ma credo ci sia la possibilità di usare il doppio controller uno per gestire un fratello l'altro per gestire l'altro e davvero la storia è interessante perché fa partecipare più persone che nei videogiochi è sempre un po' complicata come cosa perché rischiano di diventare spesso dei fenomeni di alienazione e di solitudine io invece sono qui con voi e vi ho presentato oggi questa recensione di Child of Light mi pare di aver detto tutti i punti salienti ho sfruttato poco il sistema delle pozioni e quindi non so tanto bene dirvelo ma perché io di base sono sempre abbastanza scettico sulle pozioni però sono utili e sono servite nella mia partita in particolare quindi su quello non commento tanto però spero che questo video vi sia piaciuto breve ma mi incentivo proprio di farlo per dare una summa diciamo in conclusione di questo titolo Child of Light mettete via un... vi invito a mettere un mi piace e iscrivervi al canale se per caso non l'aveste già fatto e magari guardare qualche puntata di Child of Light della mia serie se per caso non l'aveste seguita e foste interessati vi saluto ci vediamo probabilmente domani con Maintest o comunque con qualche altro video che vi interesserà ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti